Io ho dato accesso a 400 farmaci. Questa è una decisione di cui vado fiero. Non si tratta di una decisione frutto di corruzione. È stata una buona decisione che ha salvato la vita alla gente. Bisogna capire che magari aziende come Novartis danno soldi a medici e politici e non so a chi altri, ma allo stesso tempo salvano vite.